Ciao a tutti ragazzi sono Epitriaper e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. In questo episodio ragazzi farò una cosa abbastanza diversa dal solito, ovvero mi dedicherò a fare un Q&A all'interno di un episodio della serie. Per chiunque ragazzi non lo sapesse, un Q&A è praticamente un video all'interno del quale rispondo alla maggior parte delle vostre domande che mi avete posto recentemente. Detto questo non sono delle FAQ, in quanto le FAQ sono praticamente le risposte alle domande chieste più frequentemente, mentre in questo episodio andrò a rispondere alle vostre domande che mi avete fatto recentemente. Alcune di queste domande c'entrano anche con magari cose che potreste non sapere di me o cose di questo tipo, ma comunque ragazzi mentre risponderò a queste domande mi dedicherò più che altro al fare quello che farò quando sono off camera, ovvero magari a fare un pochino di mining oppure semplicemente controllare e lavorare meglio alle farm che potrebbero non funzionare correttamente. Detto questo ragazzi volevo un attimino parlarvi del perché ho deciso di fare questo episodio. Allora qua ho fatto una piccola discesa temporanea perché onestamente continuare ad andare a prendere l'ascensore non mi andava. Ma comunque ragazzi ho deciso di fare questo episodio in quanto purtroppo ho perso tutte le clip dell'episodio che avrei dovuto caricarvi al posto di questo, all'interno della quale andavo a costruire un sistema di fornaci completamente automatico. Direi vero non è completamente automatico in quanto comunque devo decidere io quale sostanza andrò a cuocere in questo caso. Devo andarmi a prendere per esempio dei cosciotti di maiale che ho farmato recentemente, ma comunque ragazzi praticamente una volta che deposito il combustibile e quello che appunto voglio cuocere all'interno della fornace è tutto completamente automatico e poi mi basta prelevarlo dall'interno della cesta. Purtroppo sono andato a perdere tutte le clip quindi dovrei praticamente rifarmi un episodio completamente da capo ma come volevo appunto ridirvi questo qua è un meccanismo che avevo fatto nella vecchia casa quindi se volete vedere come si fa questo meccanismo potete semplicemente andare a vedere il vecchio episodio in quanto comunque il meccanismo è lo stesso identico. Detto questo ragazzi approfitterei subito di questi momenti per appunto cominciare a rispondere alle vostre domande in quanto l'episodio sarà basato su questa scaletta. Allora la prima domanda ce la fa Lucia Terranova che mi chiede quanti anni hai, come ti chiami, di dove sei, non sono una stalker ma così gli iscritti ti conosceranno meglio. Allora ragazzi per chiunque non lo sapesse io mi chiamo Andrea, ho quasi 17 anni e vivo a Milano, più che altro in provincia di Milano. Me l'avete chiesto in molti, ho preso la domanda di Lucia perché è stata la più recente appunto a consigliarmi di rispondere a questa domanda comunque come potete vedere le fornaci funzionano abbastanza bene qua, oggi avevo già cotto un pochino di bistecche quindi me le riprendo ma comunque una volta che avranno finito di cuorce si finiranno qua dentro. Quindi sì, vivo in provincia di Milano, la città vabbè potete, ve la faccio indovinare la città, vediamo un pochino se alcuni di voi zeccano, non sono di Milano precisamente comunque come stavo dicendo appunto ho 17 anni, quasi 17 anni e mi chiamo Andrea, il cognome eviterò di dirlo per questioni di privacy ma comunque potete tranquillamente scoprirlo se mi iscrivete su Telegram in quanto su Telegram comunque ci sono tutte le informazioni e c'è anche il gruppo del canale che linkerò nei commenti di questo video. Allora qua mentre la carne cuoce io direi un attimino di andare a rispondere magari al commento di LucasFighter che mi chiede giochi ad altre cose oltre che a Minecraft? Se sì a cosa? Allora gioco spesso anche a Call of Duty e Overwatch ultimamente sto giocando più spesso a Overwatch per il semplice fatto, ecco lì si è bagata una zucca, peccato gioco di più a Overwatch per il semplice fatto che onestamente richiede magari un pochino più di concentrazione e onestamente ci gioco più spesso con gli amici in quanto non la maggior parte dei miei amici a Call of Duty e quindi diciamo che mi trovo meglio appunto giocare Overwatch con loro. Detto questo gioco anche ad altre cose quali magari Destiny ma molto raramente, infatti ultimamente non ci sto quasi giocando più gioco anche a, vabbè, Titan Souls in privato, tra l'altro ho intenzione di continuare la serie ma ho perso il salvataggio quindi sto ricominciando tutto da capo ma quello lì non è un grandissimo problema. Poi gioco ancora a Call of Duty ma appunto raramente come vi stavo dicendo prima e gioco spesso anche a Battlefield 1 magari con i miei amici. Tra l'altro ho cominciato a giocare anche a Rainbow Six Siege recentemente quindi se volete vedere degli episodi Rainbow Six Siege nei commenti fatemelo sapere appunto nei commenti però ragazzi vi avviso che Rainbow Six Siege ve lo porterò come Funny Moments e non magari come serie dove farò appunto delle partite così a caso ma principalmente Funny Moments come vi stavo appunto dicendo. Poi BlueXX Tie ci chiede invece da quanto tempo ha il canale? Allora il canale ce l'ho da dicembre 2014 detto questo però da dicembre 2014 non ho cominciato a caricare video. Ho creato il canale nel dicembre 2014 perché appunto doveva essere il mio canale principale poi l'ho lasciato in disuso in quanto avevo perso il telefono sopra il quale avevo l'account che poi in realtà era in casa non l'avevo perso tanto che non mi ricordavo più dove era e quindi sono andato a prendere un vecchio telefono sopra il quale avevo un mio account che appunto si chiama Andrea e poi anche il mio cognome dove appunto ho le iscrizioni tra tutti i canali principali e cose di questo tipo. Ho poi ritrovato il cellulare e verso settembre 2016, no 2015, è un 2016 e quindi dal settembre 2015 approfittando anche dell'acquisto della Playstation 4 in quanto non ho un PC ho cominciato appunto a caricare video su YouTube per poi arrivare fino ad oggi e spero onestamente di continuare ancora. Comunque grazie BlueXX Tie e anche agli altri a cui ho risposto già alle domande per appunto aver posto queste domande che onestamente sono alquanto interessanti. Poi l'altra domanda se riesco a non incastrarmi è di Pietro Albani che mi chiede che telefono hai? Allora, principalmente utilizzo il Huawei P9 Plus per il senso che ho dato che è il telefono che appunto mi sono preso per utilizzare più recentemente anche se ho anche l'iPhone 5 che utilizzo più che altro per gestire magari tutti i contatti che ho con le email e cose di questo tipo in quanto è lì dove ho depositate tutte le email. Purtroppo l'iPhone 5 col passare del tempo e con l'utilizzo della memoria del telefono è diventato abbastanza lento ed è per questo che l'utilizzo soltanto per le email e cose di questo tipo. Però comunque diciamo che fa il suo lavoro e onestamente mi trovo bene con entrambi i telefoni. Dovrei prima o poi passare tutte le email anche sull'U Huawei P9 Plus ma onestamente essendo pigro di mio non ho troppa voglia di farlo in quanto ho già poco tempo per fare quello che voglio fare e nel senso di stare lì magari a sprecare 50 minuti per spostare le email da un vecchio telefono o un altro non mi piace moltissimo quindi eviterò magari di fare appunto questo passaggio di email il più breve possibile. L'altra domanda invece ce la fa Minecraft X Pro che ci chiede Ciao sei un grande volevo chiederti continuerei solo con lo stile medievale? Allora no come potete vedere comunque ho uno stile che si basa appunto sul medievale o comunque sul medievale moderno all'interno di tutta la serie. Detto questo ho intenzione anche di spostarmi sul moderno ed è per questo che ultimamente mi sono messo a farmare Quartz nel Nether. Allora ho intenzione di spostare con una intensità graduale se così si può dire lo stile di costruzione medievale è uno stile di costruzione più moderno. Detto questo non so se avete notato ma nel villaggio dei villager che tra l'altro devo ancora continuare che devo ancora finire che sto costruendo là dietro c'è un cancello che conduce nella zona che è un pochino più lontana e che ancora non avete visto durante gli episodi è lì che ho intenzione di costruire pian piano delle costruzioni che si ridirigeranno di più verso lo stile moderno. Detto questo mi sto anche un pochino allenando in un mondo in creativa per appunto fare costruzioni o comunque case moderne perché con le case me la cavo abbastanza bene ma con il resto delle costruzioni quali magari centri commerciali o cose di questo tipo ancora non sono un gran che ed è per questo che mi sto allenando. Quindi diciamo che più che altro starò lì ad allenarmi appunto sul fare delle costruzioni abbastanza buone prima e poi magari cominceremo a costruire anche all'interno della serie in uno stile che appunto mi avete chiesto in molti di fare. Ragazzi questa qua è una domanda che mi avete chiesto in molti ed è per questo che ho detto in molti come soggetto appunto della domanda e appunto in molti mi avete chiesto prenderai il Nintendo Switch? Metterai il download del mondo in descrizione? Allora ragazzi il download del mondo ve lo dico subito purtroppo non potrò metterlo fino a quando non avrò i soldi necessari per comprarmi un PC. Dato questo ragazzi utilizzerò la maggior parte dei miei risparmi anche per prendermi Nintendo Switch in quanto onestamente la ritengo una console abbastanza buona, abbastanza promettente e soprattutto diciamo che ho intenzione di prenderla anche per il semplice fatto che c'è un gioco che onestamente mi piace moltissimo che è The Legend of Zelda Breath of the Wild e avendo seguito la saga fin da quando ero piccolo diciamo che onestamente il gioco ha promesso abbastanza bene vedendolo semplicemente dal trailer e onestamente vorrei comprarmelo anche per giocarci. Poi in molti mi hanno anche detto che il Nintendo Switch avrà una possibilità di registrare come anche su Xbox One e PS4 e quindi ragazzi se avrà effettivamente questa funzionalità o questa funzione all'interno della console ho intenzione anche di portarmi magari The Legend of Zelda Breath of the Wild che comunque da quello che ho visto è molto basato anche sul survival sul canale quindi ragazzi in caso mi dovessi prendere il Nintendo Switch con anche The Legend of Zelda Breath of the Wild ve lo porterò sicuramente sul canale come una delle serie principali fino a quando non finirò il gioco in quanto da quello che ho visto essendo basato sullo stile sopravvivenza magari potrebbe piacere anche a voi che seguite principalmente Minecraft. Questa domanda invece ragazzi ce la pone Giulia Lannini la quale chiede Quando hai creato il canale hai mai pensato di raggiungere i 5.000 iscritti? Hai traguardi anche per il futuro? Allora ragazzi no, non ho, non pensavo effettivamente di raggiungere i 5.000 iscritti perché comunque se ci pensate sono tantissime persone, cioè sono veramente tante pensando che se nella mia scuola ce ne sono 700 e ho 5.000 persone che mi seguono vedere magari le persone che entrano nella mia scuola mi fa rendere conto di quanti effettivamente siate anche se molti considerano 5.000 persone poche su YouTube cosa che onestamente non è giusta perché siete in tantissime onestamente si può anche vedere Detto questo, hai intenzione di raggiungere altri traguardi o tenesse i posti altri? No ragazzi, l'ho sempre detto anche dal primo giorno che ho aperto il canale non mi sono mai imposto traguardi da raggiungere se no magari appunto l'intrattenere e divertire coloro che ne hanno voglia o coloro che ne hanno bisogno per il semplice fatto che comunque onestamente non vedo il perché dovrebbe impormi un traguardo cioè ho iniziato il canale con la storia appunto di voler magari condividere con gli altri il mio modo di giocare, vedere se gli altri lo apprezzano vedendo che lo state apprezzate io i vicini li ammazzo prima o poi giusto per farvi capire l'orario in cui i vicini stanno battendo i chiodi sono le 11.23 di sera i vicini che bravi sono eh, vero? comunque ragazzi vi stavo appunto dicendo no non mi sono mai posto traguardi per il semplice fatto che appunto condividere con gli altri le mie esperienze e cose di questo tipo non dovrebbe essere una cosa che induce a grandi traguardi detto questo non mi lamento se siete in di più a supportarmi anzi sono contentissimo di vedere che così tante persone apprezzano quello che faccio e per come lo faccio detto questo ragazzi voglio un attimino mostrarvi com'è sta procedendo il villaggio ovviamente non lo sto lavorando principalmente in quanto mi sto dedicando appunto al farming ultimamente ma comunque come potete vedere sta procedendo abbastanza bene qua dovrò fare altre decorazioni e magari un cancello che conduce là dietro detto questo ragazzi anche se l'episodio è stato un pochino strano e magari un pochino più corto spero di aver risposto alle vostre domande spero anche di aver fatto capire magari ad alcuni di voi come sono e come ragiono principalmente detto questo onestamente qualche episodio di Q&A lo farò in quanto mi piace molto rispondere alle vostre domande onestamente mi sembra anche giusto in quanto magari volete scoprire qualcosa in più che non sapete su di me detto questo ragazzi io prezzo comunque come sempre le vostre idee che mi consigliate nei commenti la fornace automatica me l'avevate consigliata in tanti ho intenzione comunque di farne anche altre con il passare del tempo detto questo ragazzi se avete altre idee oltre che al farming anche per il semplice fatto magari decorativo o costruttivo all'interno della serie consigliatemene nei commenti che comunque leggo tutti i commenti o comunque la maggior parte dei commenti e comunque ragazzi io come sempre spero che questo episodio anche se è diverso vi sia piaciuto se si ragazzi mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace io comunque ragazzi come sempre voglio augurarvi una buona giornata una buona serata fatemi come sempre come già detto sapere le vostre idee e ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti